Andiamo ora a customizzare anche quello che è il form di inserimento dati di elementi puntuali, al solito properties e quindi drag and drop, allora vediamo un po', feed sicuramente lo tagliamo da mezzo, coordinate, ci torna sicuramente utile, facciamo così, inseriamo una sola tab e lo chiamiamo epilogo punto, sì, due colonne va benissimo, e gli mettiamo sicuramente l'informazione relativa al tipo di strada, successivamente l'ulteriore tipo di elemento che abbiamo inserito, quindi coordinate e poi immagine. Andiamo a vedere cosa ne viene fuori andando a inserire una catituia, diciamo che qui c'è una catituia. Ecco qui, sempre su strada pubblica, automaticamente viene inserito l'informazione, forse il form un pozzetto di lavaggio così su due colonne non è proprio il massimo, quindi lo andiamo subito a cambiare. Scendiamo una sola colonna. diciamo che a un certo punto sarà necessario un pozzetto di lavaggio, mettiamolo qua. eccolo qui. E ok, abbiamo inserito i nostri tre punti, vediamo come si comporta la visualizzazione del form. perfetto, così come lo vogliamo, forse è il caso di far sparire l'informazione relativa al path, quindi andiamo a modificare ulteriormente il nostro campo, e basta semplicemente togliere display resource path. clicchiamo adesso su quest'altro, ed ecco qua è visibile solo l'immagine, settiamo gli alias, quindi come avevamo settato questo qui delle tratte, strada pubblica, perfetto, questo qui lo chiamiamo, no, sì, tipologia. coordinate, e questa la possiamo definire una foto ispezione o foto segnalazione. ecco qua. Abbiamo settato anche quello che è il nostro forno, volendo inserire qualche altro punto, per esempio mettiamo qui un'altra catituia. ecco, un errore che ho commesso è andare a disattivare completamente il form in fase di registrazione, per cui adesso io non posso più andare a inserire l'immagine e verrà fuori un errore. Come vedi, non posso nemmeno andare a dare l'ok per registrare il dato, quindi devo tornare indietro. Conviene effettuare la disattivazione di questo tipo di informazioni soltanto quando abbiamo ultimato la fase di editing. quindi tornando qui, voglio mettere, ecco qua, è ricomparso. abbiamo detto catituia, e quindi ok. è stato un errore. è stato un errore. è stato un errore. è stato un errore e ha dato che sono ancora un errore.